Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. In primo piano sui giornali di oggi, le parole del Premier Draghi, ieri in visita con la Ministra della Giustizia Cartabia al carcere di Santa Maria Capuavetere, teatro di quei pestaggi e danni dei detenuti dell'aprile del 2020. Draghi ha insistito sul fatto che serve una riforma e soprattutto sul rispetto dei diritti dei detenuti. Si parla naturalmente oggi sui giornali anche del Green Pass, su cui è aperto il dibattito. Si va verso un utilizzo un pochino più specifico per poter accedere ad alcune attività sociali. Poi le vedremo meglio del dettaglio. Poi si parla naturalmente anche sul fronte prettamente politico del percorso tortuoso del disegno di legge ZAN al Senato. Ieri la richiesta di sospensiva è stata respinta per un solo voto e questo dalla misura di quanto precaria sia la situazione e quante incognite ci siano su questo percorso parlamentare. Allora vediamo subito l'apertura del Corriere della Sera. In taglio centrale il Green Pass, ora più obblighi, dati invalsi. Sono stati diffusi ieri quelli sulla didattica a distanza e quali sono gli effetti. Inpreparato uno studente su due. E poi il piano per il Green Pass sarà necessario per stadi, eventi e palestre. Si discute sui ristoranti in crescita e intanto i contagi. In taglio alto, eccolo qui, carceri, draghi e cartabbia contro le violenze. Non dimenticheremo, serve la riforma. Il DL Zanna è la legge Zanna avanti per un voto con l'ansia del PD. È stata respinta appunto la richiesta di stop. Ancora, sempre dal Corriere della Sera, la svolta dell'Unione Europea dal 2035. Le auto saranno tutte elettriche. Questo appunto per quanto riguarda il progetto dell'Unione Europea. E ancora a centropagina c'è la replica di Bonucci dopo le critiche del prefetto. Ieri c'era un'intervista proprio sul Corriere della Sera. Bonucci è la festa a Roma e dice che era stato autorizzato. Ha preparato il pullman, la telefonata e poi la scorta. E appunto Bonucci dice che le autorità avevano consentito all'uso del bus scoperto. Mentre invece ieri il prefetto aveva detto che non era così. Andiamo sulla Repubblica. Basta abusi sui detenuti, cambieremo le carceri. Draghi e la ministra della giustizia cartabia a Santa Maria Capoavetere. Gran parte della polizia rispetta i diritti. La sfida con Conte sui tempi dei processi. A breve il vertice con il Premier. E poi le questioni che riguardano il lavoro con la Whirlpool che licenzia 340 persone a Napoli. Dall'Europa il Via Libera al Green Deal. Ma Roma frena troppe tasse. Poi a centropagina la notizia di Papa Francesco che ha lasciato il Gemelli dopo dieci giorni di ricovero. Il diario del Papa in ospedale. Niente TV, voglio sobrietà. Ancora in taglio basso la Dade. Il disastro per la metà degli studenti che non sa l'italiano. E poi lì via sia i fondi per i guardacoste. Poi missione europea. Ancora Cuba. Le manovre dell'ultimo castro contro le proteste. Andiamo a vedere anche l'apertura della stampa. Eccola qui. Ancora vedete la questione delle carceri che ritorna. Mai più violenze. Draghi, non c'è giustizia dove c'è abuso. E la cartabia che dice di formare il sistema. Subito più assunzioni. Il governo non dimentica poi l'incontro con i licenziati della Whirlpool. Che c'è stato appunto a margine di questa visita. Ancora per quanto riguarda le questioni del Green Pass a cinema e teatro. Due italiani su tre dicono di sì. E dunque sono favorevoli. Il messaggero. Ancora il Green Pass che ritorna con le discoteche. Le nuove regole dell'estate. I QR code per l'ingresso ad eventi e teatri. Solo dopo due dosi di vaccino. Ma 17 milioni di italiani non lo avranno. I colori decisi in base ai ricoveri. Dunque si va verso appunto una modifica dei parametri. Le questioni che riguardano il lavoro. Il Premier si impegna con gli operai. Whirlpool sono partiti licenziamenti. L'esecutivo che sottolinea vanno tutelati i lavoratori. Draghi stop abusi. La riforma carceraria non è rinviabile. Il piano telecamere. Assunzioni e nuove celle. Ancora vediamo anche il sole 24 ore quotidiano economico che apre sul Green Deal. Auto dal 2035 stop a diesel e a benzina. La commissione presenta il pacchetto clima nel 2030 e il 40% dell'energia dalle rinnovabili. E' ancora in arrivo anche dazi sull'import da paesi che hanno leggi meno severe. Il fatto quotidiano. Eccolo qui l'apertura è sulla giustizia. La cartabbia è copiata dal processo breve di Berlusconi. Somiglia ma peggio al salvaladri del 2019. Si è svegliata la NM scrive il fatto quotidiano. Quando le stesse cose le faceva Berlusconi. Tuoni fulmini da PD e Repubblica. Ora per il sì. Santa Lucia. Soluzioni dannose e inaccettabili sul piano costituzionale. Diamo ancora un'occhiata al foglio. Eccolo qui. Da cui vi segnalo a firma di Claudio Cerasa. Orlando sul Green Pass. Sia il modello Macron. L'idea francese. La nuova fase della pandemia. I licenziamenti nella normalità. Le modifiche reddito di cittadinanza. E la rivoluzione garantista di Draghi e Cartabia. Tutto questo in questa intervista ad Orlando sul foglio. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. e riprendiamo subito dopo con la Rassegna Stampa. Bentornati in studio. Proseguiamo con la Rassegna Stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del domani. Anche questa dedicata alla visita di ieri di Mario Draghi e della Ministra Cartabia a Santa Maria Capo Avetere. Il governo va in gita nel carcere delle torture per fare promesse. Nel luogo della mattanza Draghi e Cartabia parlano dei problemi atavici del sistema carcerario. Ma responsabili e complici sono ancora al loro posto. Nessuna domanda concessa ai cronisti. E vi segnalo sempre sullo stesso argomento. In taglio alto a firma di Stefano Feltri. Ancora nessuna reazione. Le passerelle non curano la ferita della violenza di Stato. Vediamo anche il giornale. Zan, mezzo PD contro Letta. Guerriglia in Parlamento. Il segno di legge sull'omofobia. Impantanato al primo voto. La lineatura del segretario non piace. Idem. Renzi prepara il ride. Ronzulli dice serve un accordo. E poi vi segnalo anche questa intervista a Marina Berlusconi. Mio padre di Nuovo Centrale. Usi un risarcimento per le ingiustizie. Apertura di Libero. I kamikaze del PD si schiantano su Zan. Nuovo voto al Senato. I giallorossi si salvano solo grazie a Ciampolillo. Letta non ha i numeri per far passare la legge. Ma insiste senza trattare. Ancora il manifesto. Eccolo qui che torna sui temi legati appunto alla giustizia. Alla visita del carcere di ieri. Arresta il sistema. Con le parole di Mario Draghi. Che ha detto la responsabilità collettiva è un sistema che va riformato. Non c'è giustizia se c'è abuso. E la cartabia il governo non dimenticherà. Ma in taglio alto vi voglio segnalare le questioni che riguardano il mondo del lavoro. In particolare il problema dei licenziamenti. Whirlpool licenzia. Draghi promette. E poi oggi c'è il tavolo di crisi per la GKN. E lunedì è stato indetto uno sciopero provinciale a Firenze per il licenziamento appunto di questi lavoratori. Vediamo anche il tempo. Eccolo qui. Zinga regala case a chi occupa. Il Lazio premia gli abusivi. La regione garantisce abitazione agli inquilini che da 16 anni vivono gratis a piazza del popolo. Ancora vediamo anche l'apertura della verità. Tutti gli investimenti del Vaticano contrari alla morale della Chiesa del mezzo miliardo impiegato dalla Secretaria di Stato negli ultimi anni. Almeno 105 milioni sono finiti in violazione del codice di diritto canonico in imprese accusate di corruzione e inquinamento. Duro il promotore di giustizia, logiche dettate dall'avidità. Vediamo anche l'avvenire. Eccolo qui. Apertura dedicata anche qui alle carceri. Mai violenza ma un nuovo inizio. E poi oggi c'è il voto sui finanziamenti alla Libia. Soltanto per un anno saranno una furbata sui fondi ai guardacoste libici. Ancora il DDL ZAN sopravvive appeso ad un solo voto. Allora andiamo nelle pagine interne dei quotidiani. Partiamo un attimo dalle questioni che riguardano il Green Pass in primo piano nella discussione in questi giorni. Uso ampio ma non alla francese, una via italiana al Green Pass. La Gelmini che dice non inseguiamo i modelli stranieri ma incentiviamo i vaccini, le divisioni tra i partiti, il tasso di positività è all'1% con 2.153 nuovi casi. Dunque i casi stanno continuando a salire sia pur lentamente. E dunque quali sono le varie posizioni? Vediamo quelle intanto del sottosegretario della salute Paolo Sileri e di Andrea Costa che hanno due ricette differenti per provare a correggere la rotta del contagio. Facciamo subito come fa la Francia. Sostiene Sileri riferendosi al passo obbligatorio anche per entrare nei ristoranti o per viaggiare a bordo di treni e mezzi pubblici. Il Green Pass non è un mezzo indiretto per imporre l'obbligo vaccinale bensì un modo per evitare le restrizioni. Con 20-30 mila contagi giornalieri non si chiude più ma si richiede il pass anche per circostanze di vita quotidiana. Costa invece è preoccupato più dai Novax che dalla variante Delta non crede nell'opportunità di imporre il pass per andare fuori a cena. Misura eccessiva, dice, onerosa per le famiglie costrette a pagare il tampone per andare a mangiare una pizza. Il ministro Speranza snocciola i numeri di immunizzazione e di Green Pass scaricati ribadisce l'unica via per uscire dalla pandemia sono i vaccini. Dunque ancora si sta cercando appunto, come dire, il punto di caduta per capire in che termine utilizzare questo Green Pass che comunque verrà esteso a diverse attività. Toti sposa la linea Macron, giusto chiederlo allo stadio per i concerti o in discoteca. Il governatore Liguri dice non è tempo per distinguo politici. Chi si vaccina, dice Toti, ha il diritto di avere qualcosa in più rispetto a chi sceglie di non farlo. e ancora sempre dal Corriere della Sera verso l'obbligo se c'è assembramento. Adesso si discute sui ristoranti al chiuso, il confronto nel governo e la mediazione del Premier, il piano per mantenere le attività aperte e continuare la vita sociale con gli accessi regolati dalla carta verde. Non servirebbero altre restrizioni. Dunque l'obiettivo è questo, quello di evitare ulteriori restrizioni. e si discute appunto di varie questioni, intanto le palestre, le piscine, i ristoranti, che poi è l'argomento più spinoso come ci racconta il Corriere della Sera, perché i gestori dei locali hanno già annunciato proteste e l'inserimento nella lista delle attività dove sarà previsto l'obbligo non è scontato. Una mediazione potrebbe essere imporlo soltanto nei locali al chiuso oppure legandolo alla capienza, mentre resta sospesa la questione delle discoteche e poi c'è anche il nodo dei trasporti. In tutto questo il problema principale, lo segnaliamo, è come verificare appunto che chi si presenta sia in regola con il Green Pass. In Francia, due milioni di prenotazioni, ma scende in piazza la rabbia dei Novax dopo l'annuncio di Macron sui nuovi requisiti. Aumenta la corsa a immunizzarsi per non essere esclusi. E presto con il certificato, anche qui in Italia, ne parla il fisico Roberto Battiston o i casi, dice, raddoppieranno strumento che incentiva a vaccinarsi e sottolinea che la variante Delta è più contagiosa del 60% rispetto alla Alfa e il certificato è una tutela in sostanza. È uno strumento, dice, efficace e ragionevole che convincerebbe tante persone esitanti o che hanno paura a immunizzarsi con il rischio di non potersi più muovere da casa. Ci sono maniere più forti come l'obbligo, il pass è il più adatto perché a tutela dell'individuo. Il messaggio è che noi ti vogliamo proteggere dal rischio di contagio. In un certo senso, se rifiuti la doppia dose, ti isoliamo dalla società, ti racchiudiamo in una sorta di microzona rossa nel tuo esclusivo interesse. Questa è la posizione di questo fisico. Vediamo un attimo le questioni che riguardano la politica perché c'è questo muro contro muro sul DDL. Zani, il testo va avanti per un solo voto perché ieri è stata spinta di un soffio la richiesta dello stop. La Lega e il PD si fermi e Italia Viva che dice appunto serve mediare. E ancora, sempre dal Corriere della Sera, Neidem, cresce l'ansia sui numeri, ma Letta insiste. Nessuna trattativa preoccupazione tra i senatori, così rischiamo di ritrovarci con una legge Renzi-Lega. Questi appunto sono i timori. Andiamo sulla Repubblica, eccoci qui per le questioni che riguardano appunto la giustizia. Draghi, ieri tra i detenuti, giustizia, non abusi, carceri da riformare, tutelare i diritti, ma la gran parte della polizia li rispetta. Applausi e cori per l'indulto, cartabia, occasione per cambiare. l'ordinamento. E poi ancora il DAP che vuole inchieste interne sulle rivolte. Sono stati convocati i responsabili regionali. Nel marzo del 2020 le proteste legate al Covid, 13 le vittime e 200 i feriti, danni per 12 milioni. Il pene alternative, questo sarebbe il progetto, si andrà in cella solo per i reati gravi. La Ministra vuole rivedere la legge Gozzini, parte delle norme già presentate. Sulle questioni della giustizia c'è il duello sui processi. Decisivo l'incontro tra Conte e Premier che dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Probabilmente lunedì, PD, Lega e Forza Italia si è la prescrizione. Il 23 in aula, ma la data è a rischio. Il governo teme il pressing dei 5 Stelle per il rinvio e l'Avvocato vedrà Grillo nelle prossime ore per fare il punto della situazione. Faccia a faccia potrebbe svolgersi già lunedì e intanto il Movimento festeggia la nuova sede. È tutto per la rassegna stampa. Buongiorno a Palo Sottocorona per il meteo. Buongiorno, buongiorno. C'è qualche nuvola anche al centro-sud, ma non si vede molto. Sono queste ombre, vedete. Perché questa foto è ancora quella in configurazione notturna, vale a dire una foto all'infrarosso. Legge, rileva solo le temperature. E le rileva con dei colori. Più sono chiari, più si va verso il bianco, più sono fredde, più sono scuri, più caldi e più sono scuri. Queste nuvole sono basse, hanno una temperatura molto simile a quella del suolo e quindi non si vede. Invece quelle presenti al nord, vedete, diventano più bianche, quindi sono nuvole più sviluppate in senso verticale, quindi sono più fredde. Stanno già dando delle piogge fra Lombardia e Trentino Alto Adige, ma vediamo nella giornata di oggi che cosa succede in questa situazione, perché avete visto che giorno a giorno le cose cambiano un po'. Partiamo dal sud, poche nuvole. Al centro qualche nuvole in più, soprattutto nel pomeriggio, ma la presenza di piogge direi che è a bassissima probabilità. Invece sulle zone del nord, le piogge ci sono, diciamo complessivamente previste, intanto fra Lombardia e Trentino Alto Adige, anche con qualche fenomeno intenso, ma già sono in atto, quindi a fine giornata il cumulato, come si dice, cioè l'insieme di tutte le piogge sarà significativo. Qualcosa c'è anche sicuramente sul Veneto, sull'Emilia Romagna, sul Piemonte, sulla Valle d'Aosta, però i fenomeni più intensi, più significativi, sono sulla parte centro-orientale. Al di là del confine, dove guardiamo sempre, perché questi effetti sono conseguenza della presenza, al di là del confine, di una situazione decisamente più instabile. Oggi ne entra una parte, domani ne entra di più, perché guardate il quadro, già così effettivamente, i fenomeni intensi, che sono quelli collegati al colore giallo, vedete, sono a macchia, quindi sono isolati, non sono zone vaste in cui ci sono contemporaneamente questi fenomeni. Però prendono tutto il nord, prendono buona parte del centro, soprattutto sulle zone interne, e poi si affacciano anche al sud. L'estremo sud peninsulare, la Sicilia, ma anche la Sardegna, direi, i fenomeni non ne hanno, ma sulle altre zone, soprattutto nel pomeriggio, probabilmente più verso nord nella prima parte della giornata, più sulle zone del centro nel pomeriggio, ma insomma, dobbiamo attenderci questa situazione. Nella giornata di sabato, c'è un miglioramento sulle zone di nord-ovest, sulle altre zone settentrionali, centrali e, guardate, meridionali, arrivano le piogge anche lì, localmente intense, vedete, questi colori fra il giallo e il rosso danno, corrispondono a forti quantità di piogge, fortissime quantità di piogge. Il maltempo, poi, vedete, che si sposta sulla penisola balcanica, poco o nulla sulle isole, insomma, è un cambio di passo, direi, abbastanza deciso. Chiudiamo con i due flash sulle temperature minime, se ricordate quelle dei giorni scorsi, questo colore giallino, anche chiaro, significa temperature anche di 16-18 gradi, che sono quasi giuste per la stagione, ma insomma, nei giorni scorsi i valori erano molto elevati, anche al sud sono scese molto. Il moto ondoso dei mari, diciamo, a parte l'Adriatico settentrionale, parte del Tirreno, che sono abbastanza tranquilli, mossi o molto mossi, localmente agitati, i mari occidentali, ma un po' di moto ondoso, c'è anche sui bacini centro-meridionali, sullo Ionio, insomma, col tempo un po' così instabile, c'è anche un certo movimento d'aria, come si dice, ci sono i venti, e dove ci sono i venti? C'è il moto ondoso. Se volete ci vediamo alle 7.55, adesso pubblicità, e poi la prima edizione del nostro telegiornale, con Emanuele Garulli. A più tardi.